Questa mattina gli agenti della Questura di Pesaro Urbino hanno accompagnato a potenza un uomo di origine gambiana presso il centro per rimpatrio permanente per predisporne l'espulsione dal territorio italiano. Il gambiano in questione era sceso sabato alla stazione ferroviaria dove era stato trovato senza biglietto del treno e in forte stato di alterazione. Due uomini della Questura intervenuti nella circostanza lo hanno identificato scoprendone passaporto e permesso di soggiorno scaduto eppure due denunce pendenti per esistenza pubblico ufficiale combinateli a macerate nel 2018 e 2021. Si è così deciso di accompagnarlo in Questura ma l'uomo ha cominciato ad aggredire gli agenti prima verbalmente ineggiando da là e minacciandoli ripetutamente di morte, poi fisicamente tirando calci, pugni e prendendo pure a morsi il braccio di uno degli agenti provocando ad entrambi lesioni personali refertate al pronto soccorso. Giunto in Questura ha continuato l'atteggiamento ostile nei confronti di chiunque gli è capitato a tiro. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto per resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento di beni dello Stato. Oggi il via alle pratiche per l'espulsione.